Ciao a tutti, sono Silvia. Siamo qui oggi all'Alpe di Siusi, in questo bel posto dove di solito vengo ad allenarmi. Tolgo la maschera così si vede. Allora, la mia giornata tipo, di solito mi sveglio verso le 8, faccio colazione, bene abbondante perché mi serve tanta energia. E poi vengo qui, di solito all'Alpe di Siusi, dove mi alleno, provo le mie evoluzioni e poi vado a casa, mangio in fretta e furia e vado in negozio a lavorare. Eh già, perché mi tocca anche lavorare. Mi diverso anche qua, un po' di più sciando. Insomma, penso che faccia bene anche per la parte sportiva avere qualcos'altro a cui pensare, non solo lo sport e lo sci. Dopo le Olimpiadi ho appeso il mio numero lì davanti e adesso ogni tanto arrivano. Oh, sei tu! Che bello! Allora racconto le solite storie a tutti. Siamo una carcerata su sta foto. Uno realizza quanto è importante sia fare questi eventi internazionali dove comunque anche gente non del settore guarda e capisce di cosa si tratta. Ciao, ciao!